Pure, il primo ecosistema che ti permette di gestire in modo semplice e veloce i tuoi fondi in euro e criptovalute. Direttamente dal tuo cellulare potrai cambiare valute fiat con cripto e spenderli con la carta cripto senza il bisogno di convertirle. Non hai esperienza? Non preoccuparti, Pure è adatta a tutti. Scarica l'app! Scarica l'app!